Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Fabio Moresco vi dà il benvenuto ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia e come al solito iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, primo giugno. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Secondo Martire, al quale era dedicata una chiesa ora demolita nell'omonima isola. Oggi avvenne, primo giugno 1509, Luca Pacioli dà le stampe a Venezia ad opera di Paganino Paganini il De Divina Proporzione sulla Divina Proporzione, di cui solo due coppie hanno raggiunto il nostro ventunesimo secolo. Doveva diventare uno dei libri più famosi al mondo e non solo perché in parte realizzato da Leonardo da Vinci e stampato durante la sua vita. E fu proprio Leonardo da Vinci che alla fine del Quattrocento si incontrò a Milano con Luca Pacioli alla corte di Ludovico il Moro, dove incluse 59 schizzi che costituiscono la prima opera dell'artista ad apparire in stampa. Veneziana, laureata in lingua e letteratura tedesca, svolge dal 1986 l'attività di guida turistica abilitata in tedesco, francese ed italiano. Appassionata di storia antica e storia dell'arte, soprattutto della città di Venezia, alterna la sua attività a quella di madre di quattro figli. Per la rubrica Oggi con noi ritorna ospite a Buon Compleanno Venezia Natalia Spolador. Ben ritrovata Natalia e grazie per aver accolto il nostro invito per parlarci di questo grande personaggio che fu Luca Pacioli e della sua ammirabile opera De Divina Proporzione. Buongiorno Fabio, grazie ancora una volta per avermi invitato e buongiorno a tutti coloro che mi stanno in questo momento ascoltando. Oggi primo giugno e questa data ricorda un avvenimento chiaramente sempre molto importante, infatti il primo giugno del 1509 venne stampato a Venezia un testo importantissimo, cioè la Divina Proporzione di Luca Pacioli. Un testo emblematico le cui due uniche copie manoscritte si trovano uno a Ginevra con Dedica a Ludovico il Moro e un altro alla biblioteca ambrosiana di Milano, questa copia meglio conservata rispetto a quella di Ginevra. Luca Bartolomeo De Pacioli nacque a Borgo Sansepolcro vicino ad Arezzo tra il 1445 e il 1450, ma giovanissimo nel 1464 si trasferì a Venezia dove iniziò la sua carriera come precettore presso un ricco mercante di pellicce veneziano, Antonio Rompiasi che abitava alla Giudecca. Lo accompagnò in viaggi d'affari e si arricchì grazie proprio a questi viaggi di conoscenze ragionieristiche e scrisse poi anche per i Rampolli Rompiasi un testo purtroppo andato perduto. Nel frattempo seguì le lezioni di Domenico Bragadin, pubblico lettore di matematiche nella scuola di Rialto e in seguito diventò lui stesso lettore in quella scuola e insegnante di astronomia, matematica e geometria. La scuola di Rialto era una delle cosiddette scuole d'abacco che ebbero una diffusione notevole nel Quattrocento, soprattutto a Firenze e a Venezia dove vi era un livello di alfabetizzazione molto alto. In queste scuole poi venivano educati quei giovani che poi sarebbero diventati artigiani, architetti, idraulici, cartografi, maessi d'artiglieria come Piero della Francesca, Leonardo, Michelangelo, Leon Battista, Alberti. Pacioli diventò anche canonico di San Marco e all'inizio degli anni settanta però si trasferì prima a Roma, poi a Milano e aderì alla regola dell'ordine dei frati francescani minori, ma continuò incessantemente a viaggiare e soprattutto ad insegnare matematica. Luca Pacioli ormai fra Luca capì che la stampa era veramente importante per la diffusione del sapere anche perché il cosiddetto libro d'abacco rimaneva sempre nelle mani del maestro, era una proprietà gelosa che era trasmessa solo al discepolo più promettente, perciò decise nel 1494 di dare alle stampe un libro, la cosiddetta Summa, che sarà una sorta di compendio proprio ad uso degli studenti dell'allora sapere matematico e che sarà poi anche la base della ragioneria e della contabilità. Questo libro a stampa sulla matematica non era il primo della storia perché Pacioli era stato preceduto da altri tre libri matematici, però il suo progetto aveva qualcosa in più, era un progetto ambizioso. Pacioli voleva presentare tutte le conoscenze matematiche di allora. Il libro conta 303 fogli, cioè 616 pagine e dovendo rivolgersi a studenti, ad artigiani, mercanti, cercò di inventare o utilizzare dei termini comprensibili ma comunque colti. Allora ecco che la palla diventa una sfera, il tondo diventa un cerchio, il cantone diventa un angolo, la costa diventa un lato. Pacioli inventò il binomio, il polinomio, cioè il sistema in pratica la terminologia, scegliendo le voci più tecniche e più colte decisamente rispetto ai libri d'Avaco. Tra l'altro a quel tempo si usavano le parole per spiegare, perché non c'erano i segni come il più o il meno, c'erano delle abbreviazioni per il meno, c'era una M con una linetta sopra per la sottrazione e sottrarre si diceva battere, cavare. Ecco questo testo, questa summa, venne stampato nel 1494 dai torchi di Paganino Paganini, una famiglia di stampatori proveniente da Brescia e una stamperia attiva sostanzialmente in due settori, cioè quello dei libri religiosi e quelli per l'università, che erano principalmente testi giuridici. Paganini comunque è conosciuto anche per una stampa della Bibbia commentata in 14 volumi, per la quale richiede anche un privilegio decennale alla Repubblica, è conosciuto anche per il primo Corano stampato in lingua araba del 1537-1538, ma fondamentale nella sua carriera furono proprio le edizioni di queste due opere di Luca Pacioli, la summa e poi la divina proporzione. Ecco tra il 1496 e il 1499 Luca Pacioli è a Milano, dove era stato chiamato alla corte di Ludovico Sforza, detto il Moro, per insegnare matematica e da qui che conobbe Leonardo da Vinci, ne divenne il maestro, tanto che Leonardo scrisse in un appunto a margine di un foglio del codice atlantico, di ricordarsi di comprare la summa di Luca Pacioli e in un'altra annotazione invece scrive di trovare, insomma doveva trovare uno stimolo per imparare la moltiplicazione e questo gli veniva proprio dalle opere di Luca Pacioli. Però anche Pacioli parlò di Leonardo nella divina proporzione, alludendo all'affresco di Santa Maria delle Grazie. Ecco Leonardo studiò da autodidatta, gli mancarono proprio quelle basi matematiche che erano tipiche della scuola d'Abaco e in più non conosceva il latino e dunque non aveva accesso ai testi basilari, per cui la presenza di Pacioli fu assolutamente fondamentale per Leonardo. Ecco proprio in questo periodo milanese avviene la stesura del De Divina Proporzione, questo testo manoscritto di cui come già detto si conoscono solo due copie, ma venne poi stampato a Venezia nel 1509. Ecco in questo testo Pacioli ricerca in maniera scientifica la proporzione e afferma che la proporzione che lui chiama divina è applicabile in ogni progetto. Già nell'antichità filosofi, matematici erano rimasti affascinati da questa proporzione curiosa che semblava veramente riflettere in sé la perfezione e l'armonia divina, da cui l'uso dell'aggettivo divina e questa proporzione è la sezione aurea. Per cui, così per spiegare cosa sia la sezione aurea, dobbiamo considerare un rettangolo e se in esso ritagliamo un quadrato costruito sul lato minore di questo rettangolo, otteniamo un rettangolo i cui lati sono in proporzione con quelli del rettangolo di partenza e ripetendo il procedimento su questo secondo rettangolo otterremo un terzo rettangolo simile al secondo e simile al primo. Si innesca un gioco di specchi che è ripetibile all'infinito e questo testo, questa divina proporzione, è composto da tre parti. La prima con 71 capitoli che trattano proprio il rapporto aureo e le sue applicazioni nelle varie arti. La seconda parte con 20 capitoli che trattano l'architettura riprendendo tutti gli studi di Vitruvio e la terza invece è la traduzione di un testo di Piero della Francesca sui cinque solidi regolari e tanto che per questo terza libro, questa terza parte, Luca Pacioli venne anche accusato di di plagio. Ecco Pacioli sembra essere stato una sorta di spirito trainante nella costruzione materiale dei solidi regolari e dei loro derivati in forme tridimensionali. Infatti Pacioli faceva realizzare da esperti artigiani con materiali diversi, tra cui legno, il cristallo, proprio questi oggetti e chiese a Leonardo di trasferire su carta, cioè in forma bidimensionale, la forma tridimensionale. Il genio leonardesco partoria allora un oggetto misuratore il cui disegno di 4 centimetri per 4 appare in un codice e si trova chiaramente assieme a tanti altri disegni di macchine. Questo oggetto misuratore è un prospettografo, cioè uno strumento che permette di riportare i solidi tridimensionali su una superficie piana e dunque risolvendo uno dei tanti problemi della prospettiva. I disegni che Leonardo fornisce per questo trattato di Pacioli illustravano questi corpi geometrici sia in forma solida che scheletrica, proprio in modo da mostrare la configurazione della loro struttura nello spazio. E queste forme insieme al mazzocchio, che era un copricapo circolare realizzato con cascame di feltro e coperto di panno e con la sfera armillare, avevano fatto una prima apparizione nelle tarsie italiane, probabilmente ispirate anche da Piero della Francesca e divennero proprio elementi costanti nella decorazione a tarsia linea, sia in contesti civili che religiosi. Ad esempio a Verona, nella chiesa di Santa Maria in Organo, vi sono tutte queste tarsie meravigliose di Fra Giovanni da Verona che proprio riprendono gli stessi disegni che fece Leonardo. Ecco, Pacioli e Leonardo però furono costretti ad andarsene da Milano nel 1499 quando arrivarono le truppe del re di Francia, Luigi XII, e si spostarono allora alla corte di Isabella d'Este a Mantova e poi a Venezia, a Firenze. Le vite di questi due uomini proseguirono su percorsi diversi, ma è dubbio che Pacioli introdusse anche questo suo amico in questi mondi che lui conosceva molto bene e che furono proprio fecondi per l'attività di Leonardo, per le informazioni librarie, le conoscenze, scambi di idee e di esperienze. Dunque la collaborazione dei due fu veramente proficua sia per l'uno che per l'altro. Ecco, Luca Pacioli lo conosciamo anche attraverso un ritratto, un dipinto enigmatico, visto che non si conosce il nome del pittore, secondo alcuni Jacopo de Barbari, secondo altri Elvise Vivarini o la sua cerchia e tra l'altro insomma spiccava in questa cerchia di Vivarini un giovane pittore che era Lorenzo Lotto. Ecco, questo dipinto si trova ora al museo di Capodimonte di Napoli. Vediamo allora Pacioli mentre sta facendo lezione ad un giovane allievo, non guarda verso di noi ma osserva quella forma solida, poliedrica, chiamata rombicubo ottaedro che ha riempito per metà d'acqua e sospeso ad un filo. Ecco qui, guardando bene, si notano i fenomeni ottici della riflessione, della rifrazione, della semiriflessione. Infatti sembra quasi ci sia uno specchio verso una finestra aperta che si apre su un cielo azzurro, si intravede anche un'architettura e Pacioli tiene la mano sinistra puntata su un testo di Euclide, mentre con la destra sta disegnando un'altra figura geometrica e sul tavolo gli strumenti della sua professione. Pacioli morì a Roma nel 1517, però la sua eredità è ancora adesso presente. Infatti parliamo di contabilità, di partita doppia, di termini matematici specifici, ma il testo che noi abbiamo preso in considerazione, questa divina proporzione, segna proprio un punto di svolta nel Rinascimento italiano, poiché affronta con argomenti pratici, razionali e argomentabili proprio le proporzioni, cioè dimostra in pratica che i numeri e la matematica sono in armonia con la natura e che possono spiegarla ed interpretarla. Con grande attenzione per la ricerca e la sua vasta preparazione, oggi Natalia ci ha parlato di questo testo, che resta ancora oggi un testo fondamentale di matematica. E allora chiediamo alla nostra brillante ospite di suggerirci una lettura per l'integrazione dell'argomento. Ecco, consigliare un libro. Pacioli è stato veramente un uomo poliedrico e dunque su di lui e sui suoi rapporti con Leonardo vi è una bibliografia sterminata, ma direi che il primo approccio deve essere fatto proprio con il suo testo base, per cui De Divina Proporzione. Io vi ringrazio e alla prossima! Siamo noi che ringraziamo te Natalia per averci arricchito con i tuoi contenuti e naturalmente ti rinnoviamo l'invito a partecipare ancora presto alla nostra trasmissione. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic che presenta al manacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Strada fatta in compagnia, più de mesa e a va via. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Grazie a tutti!